Buongiorno, studiamo il DAF di oggi, Maseche Shabbat, DAF Zadivav, Trattato Shabbat, pagina 96. Abbiamo visto ieri che un utensile che è impuro, se questo utensile si rompe, in un certo modo, non è più adatto all'utilizzo originale, perde l'impurità. E abbiamo visto varie dimensioni, varie dimensioni di questa rottura di un certo utensile. Se è un utensile usato per i liquidi, diceva la Beraita ieri che la misura minima di foro che rende inutilizzabile questo utensile è be conness masche. Conness masche vuol dire, se si prendesse questo utensile, questo bicchiere, e lo si mettesse in una bacinella di acqua, se il foro è abbastanza grande da far sì che l'acqua entri dentro, da questa misura in poi, l'utensile è inutilizzabile per i liquidi, e quindi, se in precedenza era impuro, adesso che ha questo foro, ha questo buco, è da considerarsi rotto per il suo utilizzo originale, e quindi perde l'impurità. Se invece il foro è più piccolo di quello, ovvero è grande solo sufficientemente per far uscire i liquidi che si trovano dentro di esso verso il fuori, che è un foro più piccolo, continuerà ad essere utilizzabile, perché è vero che perde un po' di acqua, però esce molto molto piano. Se il foro è grande abbastanza che acqua da fuori entrerebbe dentro, allora vuol dire che se l'acqua si trova dentro, con un foro del genere fuoriesce velocemente. Se invece è più piccolo, di modo che solo può uscire qualche goccia fuori, è troppo piccolo e continua ad essere utilizzabile. Siccome continua ad essere utilizzabile, non perde il suo status di utensile e quindi continua ad essere impuro. L'unica eccezione era il gistera, come abbiamo visto ieri. Cos'è questo gistera? Se c'è un utensile che si rompe, in genere lo si butta via. Però, se questo coccio, questo pezzo di utensile rotto, è abbastanza grande da poter ricevere almeno un Revit di liquido, 86 cc, lo si usa come contenitore per ricevere le gocce da una lampada da cui cola del liquido, eccetera. Questo gistera viene utilizzato fin tanto che è integro. Se però si presenta un foro minimo, da cui dell'acqua può uscire, già è inutilizzabile nemmeno come gistera. E quindi, se in precedenza era impuro, adesso perde questa impurità. Dice la Gemara, Il Chachamim della Gemara insegna una seguente braita. Klicheres, se si ha un utensile di ceramica, che era impuro, e dopodiché si forma un foro. Siurò, qual è la misura di questo foro che lo renderebbe puro, cioè che farebbe sì che questo utensile non sia più utilizzabile. Bekones mashke, quanto basta per far entrare dell'acqua da fuori a dentro. Ve lo ha merumo, zi mashke, e quando se però si diceva che c'è anche una dimensione più piccola, ovvero un foro di una dimensione che del liquido da dentro l'utensile uscirebbe verso il fuori, è la legnan gistera bilvad. Questo è soltanto quando si parla di un gistera. Ma il tama, per quale motivo? Quando si parla di un gistera, un foro talmente piccolo, già è sufficiente per renderlo inutilizzabile, e quindi, se era impuro, diventa puro. Amar marasutra brede ravnachman, disse marasutra figlio di ravnachman, le fishe e non rim, perché una persona non dice, ave gistera le gistera, porta un gistera al gistera. Cioè il gistera che cosa è? Il gistera è un utensile che si è già rotto e prova a farne un utilizzo in extremis. Piuttosto che buttarlo via, lo uso come recipiente per ricevere del liquido che cola da un'altra lampada. Però, se questo recipiente a sua volta si rompe, non vado a mettere un altro recipiente rotto per quello. Nel senso che una minima rottura, un minimo foro, già lo rende inutilizzabile. È come se una persona ha un abito e mette una pezza. Non mette una pezza alla pezza. Basta una, non se ne mette due. Se bisogna mettere due, si butta via e è finita la storia. Se mai si sostituisce una pezza con un'altra. Quindi anche qui, questa gistera è un rimedio. Piuttosto che buttare via questo coccio, utilizziamolo, il minimo buco però lo rende inutilizzabile. Non dico, se questa gistera ha un buco, allora prendo un'altra gistera per ricevere dalla gistera che a sua volta riceve dalla lampada. No. Quindi, un minimo buco lo rende inutilizzabile e quindi perde la sua impurità. Un'altra cosa che abbiamo parlato ieri è di un'altra dimensione, più grande di queste due di cui abbiamo parlato adesso, ovvero la dimensione sufficiente per far passare, teoricamente, una piccola radice. Cioè abbiamo detto che un cibo, o un seme, quello che è, un cibo per poter diventare impuro, deve essere staccato da terra. Se abbiamo un cibo che cresce in un vaso, se il vaso non ha alcun foro, chiaramente è staccato da terra e quindi può diventare impuro. Se però in questo vaso c'è un foro, è da considerare sia attaccato a terra. La domanda è quanto grande deve essere questo foro per essere considerato attaccato a terra. Allora, ieri abbiamo visto che un foro grande abbastanza per, teoricamente, far passare una piccola radice, è già abbastanza grande per far sì che questo vaso sia considerato attaccato a terra. E quindi il seme, quello che cresce in questa pianta, non può diventare impuro perché è da considerarsi attaccato a terra. E adesso vedremo un'altra opinione. A Marula di Seula, A ovest, in Eretz Israel, ci sono due Chachamim che discutono. Rabi Osei per Rabi Avin e Rabi Osei per Zavda. Due Rabi Osei, uno Rabi Osei figlio di Avin, l'altro Rabi Osei figlio di Zavda. Chad Amar, uno dice che Mozzirimon, uno dice se vogliamo ritenere che questo vaso con un foro sia da considerarsi attaccato a terra, non è sufficiente che il foro sia grande quanto basta per far passare una radice, una piccola radice, bensì deve essere grande quanto basta per far passare un intero melograno. Meno di questo è come se fosse chiuso e quindi separato da terra. E se è separato da terra, quello che cresce in quel vaso può diventare impuro perché è staccato da terra. Ve Chad Amar Keshoresh Katan E invece l'altro dice, come diceva la Braitha ieri, come diceva ieri Rava, come diceva ieri Rava, scusate, non la Braitha, diceva Rava, quanto basta per far passare una piccola radice. Vessim Anach, allora qual è il segno per ricordarsi queste due misure? Perché ieri abbiamo parlato, quando si parlava dei liquidi, si parlava un foro che permette la fuoriuscita dell'acqua, che è la minima misura, e poi il foro che permette l'entrata dell'acqua, che è un po' più grande, ma quello riguarda un utensile adibito all'uso dei liquidi. Poi, quando si parlava dei solidi, abbiamo parlato o un foro, quanto basta per far uscire una piccola radice, o quanto basta per far uscire un'oliva, o quanto basta per far uscire il melograno. Tre misure. Quindi per ricordarsi che le due opinioni sono o una piccola radice o un melograno, ma non la dimensione di un'oliva, su quello nessuno la considera, dice Echad Amar Beve Echad Amamit. La Torah usa queste parole, chi dà tanto e chi dà poco, quando si portava i corbanotti, i sacrifici, chi aveva le capacità economiche portava un animale, chi invece non aveva queste capacità economiche magari portava un po' di farina, è chiaro che c'è una grande differenza, questo è un grande animale, questo è un po' di farina, al che dice la Torah non cambia cosa si dà, chi dà tanto e chi dà poco, quello che conta è l'intento che lo si faccia a nome di Hashem. Ad ogni modo, chi dà tanto e chi dà poco, un estremo di qui o un estremo di lì. Il modo di ricordarsi che i due hachamim che discutevano su qual è la misura del foro che si forma in questo vaso per far sì che ci sia una connessione, ci sia un collegamento tra il vaso e il terreno e quindi quello che cresce sopra è da considerarsi attaccato a terra e non staccato da terra, potrebbero esserci tre misure. Noi però sappiamo che sono solo due quelle estreme, o grande, secondo uno, deve essere grande quanto basta per far passare un meno grano, o secondo l'altro è sufficiente che sia grande quanto possa per far passare una piccola radice e già è da considerarsi attaccato a terra. Conclude la Gemara. Amma Rav Kinnana Barqahana Mishmeda Rabeliezer. Disse Rav Kinnana Barqahana a nome della Rabeliezer, Klicheres, un utensile di ceramica, Shiroke Mozizeitin, un utensile ovvero usato per cibi solidi, da quando si è diventato impuro in precedenza e dopodiché si rompe, si crea un foro, quanto grande deve essere questo foro per renderlo puro, cioè per far sì che questo utensile non sia più utilizzabile e quindi non si considera più utensile e quindi perde la sua impurità, quanto basta per far uscire un'oliva. Perché i cibi piccoli hanno questa misura e quindi è la misura standard. Se vuoi sapere un recipiente da quando viene considerato rotto, da quando ha un foro grande, quanto fa passare l'oliva. Meno di questo è ancora utilizzabile. Dall'oliva in poi, sì, può essere usato per altre cose, però se non ci si pensa in maniera esplicita, non lo si usa più e quindi perde il suo status di utensile. E da questo punto in poi, questo utensile di ceramica viene considerato come un utensile di terra, la differenza tra ceramica e terra e argilla, che la ceramica viene poi messa nel forno, l'argilla invece viene lasciata essiccare senza metterla in forno. E questo è un utensile che non può contrarre alcuna impurità. oppure utensili di pietra non possono contrarre alcuna impurità. Utensile di ricavato da concime, escrementi animali, non possono contrarre alcuna impurità. Quindi in sostanza quello che dice Marca Shisha, figlio di Rabba, nome di Rabbe Lieser, è che da questo punto in poi, cioè un utensile di terracotta, che può diventare impuro, è diventato impuro, si rompe e c'è un buco grande, un foro grande quanto può uscire un'oliva, non è più impuro e non potrà più essere impuro. Perché ieri abbiamo visto diversamente, abbiamo visto che è vero che questo utensile cessa di essere impuro, però se una persona dice io comunque voglio utilizzarlo, ma che utilizzo ne fai? Se ha questo foro ti esce tutto quello che metti dentro. Lasciamo stare i liquidi, che già da una misura molto più piccola è già inutilizzabile, ma anche i solidi ti cadranno. Dice no, io voglio usarlo per i melograni. Se una persona ci pensa in maniera esplicita, allora sta conferendo lo status di utensile utilizzabile a questo utensile, quindi continua ad essere impuro. Invece Marca Shisha, nome di Rabbe Lieser, dice no, anche se uno pensa di usarlo come contenitore per melograni, non torna ad essere impuro, ed è da considerarsi come se fosse un utensile di pietra. Un utensile di pietra non può mai contare impurità, a prescindere da quello che tu pensi e dall'utilizzo che ne fai. Puoi usarlo per quello che vuoi, non sarà mai impuro. L'homidivretto rave, l'homidivretto frim, né biblicamente parlando, né rabbinicamente parlando, quindi non c'è alcuna impurità assolutamente. Conclude, o legnanza mit patil, riguardo invece l'utensile che viene sigillato, abbiamo detto ieri che se c'è un utensile nella stessa stanza, sotto lo stesso tetto con un morto, in questo contenitore ci sono altri utensili, l'impurità entra come se fosse e rende impuro quello che è dentro a questo utensile. Se però l'utensile, se il contenitore è sigillato, l'impurità non può entrare. Ora, se però si rompe, è sigillato ma si rompe, abbiamo detto che l'impurità può entrare solo per via di un'apertura, non per via di un foro. Allora, fino a quando lo considera un foro, si rompe un po' di questo utensile. Fino a quando lo considera un foro e da quando lo considera un'apertura, haci i pachet rubo. Deve per forza rompersi la maggioranza di questo utensile e soltanto allora viene considerato un'apertura e quindi nonostante sia sigillato in alto, il fatto che sia rotto in basso fa sì che l'impurità entri dentro e renda impuro quello che c'è dentro. Meno di questo sarà da considerarsi un mero foro, non un'apertura e quindi l'impurità non potrà entrare dentro. Torneremo a studiarti il capitolo Hamazinia. Questo è quello del decimo capitolo. Passiamo all'undicesimo capitolo. Si riprende l'argomento di trasporto da una proprietà all'altra o nella proprietà pubblica. Dice la Mishina Una persona che lancia un oggetto, non che trasporta, bensì che lancia un oggetto. Da proprietà privata a proprietà pubblica oppure viceversa. Da proprietà privata a proprietà privata Hayav deve portare un Corban, ovvero ha trasgredito il divieto di trasportare di Shabbat. Se invece uno trasporta da, cioè nonostante che non abbia trasportato, ha gettato, uno che getta un oggetto, non so cosa ho detto prima, il punto qui è uno che getta, perché finora abbiamo sempre parlato di uno che trasporta, e lo sappiamo bene, la proprietà privata a pubblica e viceversa è vietato. Qui aggiunge anche uno che getta da una proprietà all'altra. Se una persona getta, lancia un oggetto da una proprietà privata all'altra, passando però per la proprietà pubblica, cioè lancia un oggetto tra una proprietà privata e l'altra, però c'è la proprietà pubblica. Rabbi Akiva dice che è Hayav, cioè ha trasgredito un divieto della Torah, e dicono no, è vietato ma non c'è divieto della Torah, e questo la Gemara più avanti spiegherà la disputa tra le vecchie e i Chachamim. Keitzad, dice là la Mishnah, come è l'opinione dei Chachamim, che se uno lancia da una proprietà privata all'altra, passando per la proprietà pubblica, è patur. Shtè Gesusteraot, se ci sono due Gesusteraot, Gesusteraot è plurale di Gesustera, Gesustera, se vogliamo dire breve, sarebbe una sorta di balcone. Gesustera è una tavola di legno che viene appoggiata al muro e si regge, si sostiene con dei chiodi, insomma, con dei sostegni. Ed è larga almeno 4 tefahim per 4 tefahim e si trova ad un'altezza minima di 10 tefahim da terra e quindi ha tutte le condizioni per essere una reshut hayahid, una proprietà privata, perché è larga 4x4 ed è alta 10, nonostante non sia chiuso in basso è da considerarsi come se fosse chiuso in alto 10 tefahim ed è una proprietà privata. Allora, se ci sono due Gesusteraot, chiamiamoli balconi. Ci sono due Gesusteraot, uno di fronte all'altro, in proprietà pubblica. Allora, la Gesustera di per sé è proprietà privata, l'altra è anche proprietà privata, ma in mezzo c'è proprietà pubblica. Se una persona porge un oggetto da un balcone all'altro, o se lancia da un balcone all'altro, è patur. Moshit è uno che porge, cioè c'è una persona sul Gesustera qui, una persona sul Gesustera lì, e uno porge all'altro. In mezzo c'è proprietà pubblica, patur. O se uno lancia da un Gesustera all'altro, patur. Se invece si trovano sullo stesso lato della strada, quindi una Gesustera qui e una qui, sullo stesso lato, dall'altro dipende. Se uno porge, se uno tende l'oggetto, sarà chayav. Se invece uno lo lancia, sarà patur. Perché? Perché in effetti così si svolgeva il lavoro dei levimi, i levimi che erano incaricati a smontare il Mishkan, caricare le assi sulle carrozze, facevano nella seguente maniera. Shetea galot, due carrozze, e ogni carrozza era considerata reshuta yachid, perché aveva le dimensioni di reshuta yachid, zuach arzub e reshuta rabim. Si trovavano in proprietà pubblica, chiaramente, ed erano disposte in questa maniera due a fianco, una all'altra, e dopodiché altre due, quindi due paia di carrozze. Il primo paio, uno a fianco all'altro, e il secondo paio, uno a fianco all'altro. Moshittin, achiarashim, misulesu, e i levim porgevano le travi da una carrozza all'altra. Cioè le travi si poggiavano su due carrozze. Si viaggiava con due carrozze, e queste travi molto lunghe. E quindi si porgeva le assi da una carrozza all'altra, quando erano disposte una a fianco all'altra. Siccome noi, i divieti di Shabbat, li impariamo da come si svolgevano i lavori nel Mishkan, allora vediamo che nel Mishkan, nel processo di smontare, per poi rimontare il Mishkan nella prossima tappa, si porgeva le assi da una carrozza all'altra, allora impariamo due cose, che la carrozza è riuscita ai achid, l'altra carrozza è riuscita ai achid, e in mezzo c'è il Rishut Arabim. Allora impariamo che se uno porge, così come con il Mishkan, si porgeva, non si lanciava, e si trattava di due carrozze, una a fianco all'altra, con il Rishut Arabim in mezzo, così anche noi, se abbiamo due Gesustera, che sono due Rishut Ayahid, se sono una a fianco all'altra, e si porge un oggetto da una all'altro, se c'è la Rishut Arabim in mezzo, si è hayah, se manca una delle due, ovvero se sono uno di fronte all'altro, oppure se sono uno a fianco all'altro, però non porgo l'oggetto, bensì lo lancio, non sarò hayah, perché ho bisogno di queste due condizioni, porgere e che siano una a fianco all'altro, per essere hayah, perché altrimenti non è simile a come si svolgeva nel Mishkan. Ok. Avalo Zorkim non si lanciava. Questo conclude la Mishnah. Siamo a Tzadikvav Amudbet. Dice la Gemara, Mirdi, analizziamo, Zerika Tolada Deo Tza'ahi. Lanciare un oggetto è praticamente la Tolada, è la subcategoria di trasportare da una proprietà all'altra, perché la Mishnah cominciava dicendo colui che lancia, colui che getta un oggetto da una proprietà all'altra, privata, pubblica e viceversa, è hayah. Ora, lanciare chiaramente deriva da trasportare. Hoza'agu fa'echa'chittiva, ma dove dice la Torah che è vietato trasportare di Shabbat? E la domanda ovvia è, beh, se per quello la Torah non parla di quasi nessuna attività vietata di Shabbat, eccetto che per accendere il fuoco di Shabbat, perché la Torah dice non svolgerete alcuna melachà e noi impariamo che melachà si intende tutto quello che veniva svolto nel Mishkan. come mai la Gemara ad un tratto si chiede, eh, ma dove dice la Torah che non si può trasportare di Shabbat? La realtà svolge che trasportare è una melachà geruah. Melachà geruah vuol dire una melachà che di per sé non ha alcun motivo di essere considerata un'attività. Attività vuol dire ho causato una trasformazione. tutte le melachà che conosciamo c'è una trasformazione arare il campo ho trasformato il campo seminare sto causando che poi cresca qualche cosa ehm ehm come dire tagliare insomma il il mietere sto trasformando qualche cosa sto preparando qualche cosa sto cambiando le cose lavorare le pelli accendere il fuoco c'è sempre una trasformazione qui invece trasportare non ho praticamente fatto niente ho preso da qui a lì e quindi se non c'è una fonte esplicita non avrei saputo chi è vietato e quindi la Gemara si chiede da dove sappiamo chi è vietato trasportare il Shabbat Amar Biochanan di Sarab Biochanan De Amar Krah c'è un passù che dice quando il popolo fece le donazioni per la costruzione del Mishkan a un certo punto ci fu materiale sufficiente per la costruzione del Mishkan al che vayetzaf Moshe Moshe diede direttiva diede ordine vayaviru kolba machane fecero passare voce nel campo dicendo non date più donazioni allora dice la Torah allora dice la Gemara Moshe e khan avayativ Moshe dove si sedeva nel Makhanelevi'a nell'accampamento dei Leviti i Levìim si accampavano intorno al Mishkan perché c'era il Mishkan in mezzo intorno ai Levìim e intorno poi come Milano con le sue circonvalazioni interne e esterne cioè i Levìim intorno al Mishkan e tutto il resto intorno ai Levìim allora Moshe si trova nella Makhanelevi'a nell'accampamento dell'Evìim che è la proprietà pubblica un Makhanelevi'a reshut Rabbim Hawaii perché è proprietà pubblica perché è dove la gente veniva il pubblico veniva a studiare la Torah da Moshe o si veniva per andare in Beddini se c'era caso di litigi tra un ebreo e l'altro quindi era il luogo per il pubblico e Moshe dice dal suo luogo che è la proprietà pubblica dice al popolo non fate uscire non trasportate dalle vostre tende che è la proprietà privata a qui all'accampamento del Mishkan dove si svolgerà all'accampamento o almeno all'accampamento delle Viim che è la proprietà pubblica non trasportate i materiali per la costruzione del Mishkan e quindi quando dice a Moshe non portate più donazioni vuol dire non trasportate da proprietà privata a proprietà pubblica quindi questa sarebbe la fonte che ci insegna che di Shabbat è venuto a trasportare da proprietà privata a proprietà pubblica dice la Gemara dove è scritto che questo era di Shabbat Moshe dice al popolo non portate più donazioni ok non trasportate la proprietà privata che è la vostra tenda a proprietà pubblica che è l'accampamento delle Viim che è per il pubblico e che dice che era di Shabbat forse era durante la settimana e allora perché Moshe dice loro di non portare più donazioni semplice semplicemente perché si era completato il materiale necessario per la costruzione del Mishkan che di Htiv come infatti è scritto il materiale per svolgere il lavoro della costruzione del Mishkan era sufficiente dice la Gemara Gamar noi qui impariamo Gamar come Gemara studio impariamo ci sono due parole cioè la stessa parola che compare due volte nella Torah che cosa vuol dire che Tivaha qui in questo contesto di Moshe che dice al popolo di non portare più donazioni è scritto fecero passare la voce nel accampamento questo fare passare la voce che diceva non portare più donazioni Uctivat è descritto lì riguardo Yom Kippur Yom Kippur degli Ovel del Giubileo che è l'anno in cui gli schiavi uscivano liberi da Rosh Hashanah non facevano più lavori da Kippur invece diventavano completamente liberi però bisognava suonare lo Shofar quel Shofar una volta in 50 anni rendeva liberi gli schiavi ed è scritto lì in quel contesto Veha avartà Shofar Teruah farai passare il suono dello Shofar allora male alà così come lì nel contesto di Kippur degli Ovel Beyom Assur si tratta di far passare questa voce dello Shofar nel giorno in cui è vietato svolgere attività che è Kippur Afghan così anche qui quando la Torah dice che Moshe fecero passare questa voce questo ordine di Moshe Beyom Assur si tratta di un giorno in cui sarebbe vietato svolgere attività e quindi era evidentemente di Shabbat e evidentemente Moshe lo diceva per dire che è vietato trasportare il Shabbat perché se è soltanto per dire che non serve più portare donazioni non sarebbe stato necessario specificarlo nella Torah non è un'informazione che ci interessa se comunque la Torah ce lo dice evidentemente è perché ci sta insegnando che Moshe diceva al popolo non trasportate di Shabbat e quindi nonostante sia una Melachah Geruah una Melachah che uno non considererebbe tale siccome però Moshe lo dice come abbiamo visto che si trattava di Shabbat è vietato trasportare di Shabbat dice la Gemara bene Ashkechan abbiamo trovato una fonte che insegni che il divieto di Hoza'a di fare uscire da proprietà privata quella pubblica perché dalle tende all'accampamento delle viim ma dove sappiamo il contrario dove sappiamo che è vietato far entrare da proprietà pubblica quella privata dice la Gemara è una logica perché se analizziamo alla fine è da una proprietà all'altra che differenza mi fa se si tratta di fare uscire e che differenza mi fa se si tratta di fare entrare dal momento che la Torah ti dice che non puoi fare uscire evidentemente dice che non puoi fare entrare però alla fine c'è una differenza tra fare uscire e fare entrare che fare uscire da privata pubblica è un è un padre è la fonte invece fare entrare da pubblica privata è una torada è una è una come dire è un figlio è un derivato e dice la Gemara che differenza fa se è una fonte o se è il derivato analizziamo per questo uno è e per l'altro uno è sia se fa uscire sia se fa entrare e quindi come mai questa lo chiami perché questo invece lo chiami la torada il figlio del derivato dice la Gemara c'è una differenza come lo chiami perché se una persona di Shabbat involontariamente fa due melachot che sono due avot diversi cioè un av semina e un altro av lavora le pelli sono due avot completamente diversi e si dimentica che sono vietati quindi le fa insieme nel senso che dimentica di uno e dimentica dell'altro inami oppure se uno fa due derivati di due fonti diverse di Shabbat mi chai e vtar ti devo portare due corbanot perché perché ci sono qua due dimenticanze ho dimenticato questa categoria di lavori vietati e ho dimenticato quella categoria quindi due corbanot invece una persona fa av melacha e il suo derivato ad esempio una persona av melacha sarebbe separare il chicco dalla spiga una tolada sarebbe munge l'abbiamo visto ieri perché l'idea è staccare una cosa dall'altra una cosa che è inserita nell'altra se una persona dimentica che non si può staccare il chicco dalla spiga e lo fa di Shabbat e munge anche di Shabbat dovrà portare un solo corban perché? perché ha dimenticato una categoria la categoria di dash separare una cosa dall'altra l'omichayev e l'achada deve portare soltanto un corban e quindi mi è importante sapere che fare uscire è una che fare uscire da proprietà privata quella pubblica è un av melacha e fare entrare invece è una tolada perché se fosse anch'essa una av avrei qua due melacha diverse cioè se una persona di Shabbat dimentica e fa uscire un oggetto e fa entrare un oggetto quanti corbanot deve portare se fossero due avvo diversi avrebbe dovuto portare due corbanot perché ha avuto due dimenticanze ha dimenticato che non si può trasportare da privata pubblica e da pubblica privata dal momento che però mi dice la gemara che non è così av melacha è da privata pubblica e la subcategoria il derivato è da pubblica privata se faccio entrambe le cose ho una sola dimenticanza ovvero il trasporto da una proprietà all'altra e quindi porto un solo corban dice la gemara però riguardo secondo rabbini dice che non è così se una persona fa un av e la torada ad esempio come diciamo prima ha separato il chicco dalla spiga e ha anche munto la mucca ha fatto un av e una torada deve portare due corbanot perché sono due due dimenticanze è vero che sono della stessa categoria ma su due dimenticanze ha mai caro la av e ha mai caro la torada per quale motivo alcune venivano chiamate av alcune venivano chiamate torada se alla fine deve comunque portare un corban per ciascuno secondo quello che dicevamo noi devo sapere quale melacha è figlia è derivato da quale fonte per sapere che rientrano nello stesso gruppo e quindi se faccio due o tre nello stesso gruppo porto solo un corban per abiliare invece che comunque porto un corban per ciascuno che differenza ci sarà tra av e torada dice la Gemara in effetti non c'è alcuna differenza è semplicemente questione tecnica quelle attività che venivano svolte nel mishkan e avevano una importanza cari le av vengono chiamate av quelle che invece non erano considerate imponanti nel mishkan lo cari le av non viene chiamata av bensì torada secondo come spiega uno dei commentatori il Tosfotarosh portare le donazioni da proprietà privata a quella pubblica era considerata importante perché era la costruzione di mishkan invece smontare e mettere da proprietà pubblica alla proprietà privata che sono le carrozze con cui si trasportavano i vagoni con cui si trasportavano queste assi non è da considerarsi importante quindi è una torada inami oppure quelle che sono scritte esplicitamente sono chiamate av quando si parla di fare entrare e fare uscire come mai da fare uscire da privata pubblica la chiama av perché è scritta nella Torah come abbiamo visto adesso invece con Moshe vai a aviru vai a aviru far passare la voce che è scritto in maniera diciamo esplicita che non si può fare uscire da proprietà privata quella pubblica invece fare entrare da pubblica privata che non è scritto ma ad ogni modo non c'è differenza in sostanza tra av e torada ok adesso la Gemara passa al divieto di trasportare in proprietà pubblica stessa non da privata pubblica viceversa bensì in proprietà pubblica c'è una Mishnah più avanti che dice se una persona trasporta un oggetto non si trasporta getta un oggetto in proprietà pubblica e passa le famose quattro amot o diagonale di quattro amot e questo oggetto è appiccicoso e va ad attaccarsi ad un muro allora se questo oggetto si attacca al muro al di sopra di decite che è come se avesse gettato in aria noi sappiamo che la proprietà pubblica si alza fino a 10 teofahim e si limita 80 centimetri al di sopra di quello è come se non esistesse non c'è niente ma compitur non è niente è un luogo dove non c'è alcun alcun divieto se uno trasporta la proprietà pubblica a me compitur o viceversa la proprietà privata a me compitur se uno trasporta a me compitur non c'è alcun problema perché è un luogo che non è alcuna proprietà e quindi non c'è alcun divieto allora se uno lancia questo oggetto è vero che sono passati quattro amot però come abbiamo detto molte volte bisogna fare akira e hanakha bisogna alzare e appoggiare qui questo oggetto non si è appoggiato l'ho alzato sì ma non si è appoggiato e quindi se rimane sul muro attaccato al di sopra di 10 teofahim è come se fosse rimasto in aria e quindi la persona è chiaramente patù perché non ha fatto alcuna hanakha non ha appoggiato in proprietà pubblica se invece va ad appoggiarsi nel muro al di sotto di 10 teofahim che zoreg barez è come se avesse appoggiato a terra perché non fa differenza se è a terra a terra o 10 teofahim fino a 10 teofahim è come se fosse proprietà pubblica e quindi come se fosse a terra è una persona che lancia un oggetto non solo che trasporta ma anche che lancia quattro amot e hayab ok allora la domanda qual è da dove sappiamo che uno che lancia cioè questa mi insegna che uno che lancia un oggetto in proprietà pubblica e passa le quattro amot è hayab ok da dove lo sappiamo finora abbiamo parlato da dove sappiamo che se si trasporta la proprietà privata pubblica e viceversa da dove sappiamo che sia hayab adesso la domanda è da dove sappiamo che se si lancia un oggetto quattro amot da dove sappiamo che sia hayab per il mishkan bisognava preparare le tende allora coloro che tessevano le tende usavano gli aghi e se serviva al compagno un ago uno lo gettava all'altro e quindi la gemara presume si gettava l'ago distanza a quattro amot ecco da qui ha imparato che è vietato farlo di shabbat siccome è quello che è vietato shabbat lo impariamo dal mishkan per la preparazione dei tessuti delle tende si lanciava l'ago dice la gemara ma quelli che tessevano le tende non usavano mica gli aghi cosa si rifacevano degli aghi per tessere la tenda non serve l'ago serve il macchinario l'apparato stendere i fili passare il filo in orizzontale disporli in verticale non serve l'ago dice la gemara hai ragione si parla dei sarti quelli che ricamavano i ricami le figure sulle tende hai ragione non erano quelli che tessevano ma si quelli che cucivano quelli che facevano i ricami usavano gli aghi se capitava il compagno mancava l'ago si era roto quello che è gli lanciavo un ago dice la gemara ho capito ma magari erano seduti vicini da dove lo sai che erano lontani i quattro amot dice no per forza erano distanti perché quando uno cuce tira l'ago per tirare bene i fili e quindi se c'è il compagno vicino rischia di pungerlo e per questo si davano queste 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 si davano queste queste misure di distanziamento beh forse capita a caso in questi giorni di distanziamento sociale invece a quel punto era per semplicemente per non causare di pungere il compagno allora ci si distanziava di quattro amot dice la gemara ho capito bene ci si distanzia però forse erano distanti però meno di quattro amot tu dici che lanciare quattro amot è vietato perché se capitava che all'altro mancava l'ago glielo lanciava si ho capito che erano distanti ma perché quattro amot e la maravrisa mensil dice la frisa quando la gemara dice ela vuol dire bisogna cambiare un po' rotta o completamente o un po' ela vuol dire rivalutiamo la cosa dice la frisa allora coloro che tessevano abbiamo visto molte volte che disponevano i fili in lungo in verticale e dopo di che si passava il filo in orizzontale da una parte all'altra per non perdere il gomitolo lo si metteva in questo bukja che è questo piccolo cofanetto questa piccola scatoletta da cui c'era un piccolo foro e da lì usciva il filo questo abbiamo visto quando si parlava della quantità minima di colore che si trasporta di shabbat quanto basta per colorare quella superficie che sigilla questo bukja ad ogni modo però si passa il bukja da una parte all'altra ok allora e siccome questa questo apparato per tessere le tende era largo 4 amot gettando il bukja da una parte all'altra stai gettando 4 amot e quindi per il mishkan vedi che si gettava un oggetto per 4 amot quindi noi non possiamo farlo di shabbat dice la gemara ho capito ma non è che lo gettava stile libero si gettava questo bukja ma si teneva cioè l'artigiano teneva comunque l'altra estremità del filo in mano non è che lo lanciava e basta teneva un'estremità con questa mano e poi lo lanci tenendo ancora l'estremità e fin tanto che hai una estremità in mano è come se non fossi stato trasportato 4 amot perché è ancora in mano tua un po' come quando si trasportava da una metà pubblica privata se il cesto è a metà strada non è completamente fuori qui anche questo oggetto non è completamente trasportato perché è ancora un po' in mano tua dice la gemara giusto intendevo benis habatra nell'ultimo oggetto perché quando si getta da una parte all'altra mentre si sta passando il filo in orizzontale si tiene un estremo l'ultimo oggetto invece lo si lancia e basta per comunque l'ultimo tiro non mi serve più questo filo dopo lo lancio e finita la storia e quindi eccoci qua la fonte di uno che getta 4 amot in proprietà pubblica è Hayaf perché così si faceva per la costruzione del Bishkan dice la gemara benissimo però alla fine dei conti è un mecompetur è vero che i lavori venivano svolti in proprietà pubblica perché lo si faceva nell'accampamento dei Leviim che come abbiamo visto prima è proprietà pubblica perché il pubblico veniva a sentire la Torah da Moshe o per Beddine eccetera però il filo stesso sta passando in mecompetur perché questo apparato certamente non può essere considerato proprietà pubblica perché non è un posto adibito al passaggio delle persone è un mecompetur non è proprietà privata neanche da un momento che è un mecompetur da un momento che è una proprietà che non è né privata né pubblica insomma una proprietà dove non c'è alcun problema di trasporto allora come puoi imparare da lì che è vietato trasportare in proprietà pubblica lì il trasporto che è vietato lanciare in proprietà pubblica lì non si lanciava in proprietà pubblica l'apparato era in proprietà pubblica ma il lancio veniva fatto in questo apparato che a sua volta è un mecompetur dice la Gemara è ragione capitava che quando due persone due artigiani tessevano le tende per il Mishkan ciascuno aveva il suo Bukhyar se capitava che il compagno aveva bisogno di un altro Bukhyar glielo lanciava ok evidentemente adesso ritorniamo allo stesso ragionamento di prima con gli aghi copy-paste a questo Bukhyar dice la Gemara vedilma gabbeadade avuiatvi però magari erano seduti vicini chi ti dice che erano lontani quattro amote quindi se serviva il Bukhyar si lanciava quattro amote dice la Gemara matuadade behefet e no non potevano stare troppo vicini perché quando uno lavora con i fili per le tende deve tirare bene bene questi fili in orizzontale in verticale e quindi magari se tira tanto rischia di dare un colpo al compagno che gli sta vicino e quindi per forza stavano lontani se stavano lontani erano distanti i quattro amote dice la Gemara bene vedilma shalhufey havume shalhafei dice magari non erano distanti i quattro amote magari erano disposti in maniera tale che erano uno di fronte all'altro ma uno a fianco all'altro cioè di fronte a fianco uno nord-est e l'altro sud-ovest così a due lati di modo che erano vicini e quindi c'era una distanza inferiore ai quattro amote e comunque non c'era il rischio di dare un colpo all'amico perché ai lati era tutto libero e quindi ad ogni modo magari erano vicini i quattro amote e quando si lanciavano il bukhiyar uno all'altro lo si lanciava ad una distanza inferiore ai quattro amote e tu e un'altra domanda ti chiederò anche se fosse che erano distanti i quattro amote ma puoi forse credere che prestavano a vicenda gli utensili e gli arnesi per il lavoro però ci insegnò Luda un certo la Torah dice cosa vuol dire uomo uomo dal lavoro che svolgevano per l'imishkan ciascuno svolgeva il suo lavoro con i suoi attrezzi ma non usava attrezzi del compagno e quindi certamente non si lanciava una vicenda la Gemara dice anche se fosse che alla fine dei conti ti smonto tutto perché Luda ci insegna che non si scambiavano gli attrezzi Vetu è un'altra domanda magari anche se anche se si reggessi questo tuo insegnamento che uno che getta un oggetto quattro amote è chayav perché lo si faceva col bukhiyar anche se fosse così però ma avirar bambot bishud arabim minana de mi chayav ancora non ho una fonte che se uno trasporta quattro amote è chayav cioè questo mi insegnerebbe solo che uno che lancia quattro amote anche se fosse che ho una fonte che mi insegna questo mi insegna solo che lanciare quattro amote è una pratica che veniva svolta per il mishkan e quindi vietato di shabbat però trasportare senza lanciare non lo trovo da nessuna parte nella costruzione del mishkan quindi vuol dire che è permesso e la bensilice la gemara la risposta finale è la seguente col arba amote bishud arabim qualsiasi attività vietata legata al trasporto di quattro amote in proprietà pubblica che sia trasporto che sia gettare gemara gemirila è praticamente halakhare moshe misinai è una regola che ci è stata data sul monte sinai quando moshe riceve la Torah orale e quindi è una regola che non ha alcuna allusione nella Torah non ha alcuna fonte nella Torah è tutta una tolada di hozza' è tutta una diciamo una subcategoria è una diciamo derivato non derivato nel senso letterale che lo derivo da non lo derivo da lì perché lo derivo dal fatto che halakhare moshe misinai viene dato così come Torah orale però rientra nella categoria di trasportare da proprietà privata quella pubblica quindi abbiamo av melachah che è trasportare da proprietà privata quella pubblica perché è quello che moshe diceva non trasportate dalle vostre tende al mio accampamento per la costruzione di Mishkan tutto il resto cioè da proprietà pubblica privata o trasportare o gettare quattro moto in proprietà pubblica è tutto nella categoria è tutta una Torah da di questo av quindi se si fa tutte le quattro delle cose di Shabbat dimenticandosi che è vietato si porta un solo Corban perché è una sola dimenticanza visto che si è parlato di trasportare quattro moto in proprietà pubblica dice la Gemara la persona che aveva raccolto legna di Shabbat la Torah racconta che Am Israel era nel deserto e videro un uomo che raccoglieva legna di Shabbat Mekoshesh adesso Mekoshesh letteralmente vuol dire uno che raccoglie che accumula però in un senso più vasto può includere tre attività anzitutto staccare da terra la legna quello che cresce numero due mettere insieme fare una sorta di covone fascio e numero tre trasportarlo perché una persona cosa fa? ha bisogno di questa legna quindi la taglia la accumula e se la porta la trasporta a quattro amot allora quando la Torah dice che il popolo trova un Mekoshesh quale delle tre esattamente faceva? allora dice il suo peccato era che aveva trasportato quattro amot in proprietà pubblica ben mattini tatana nella braita invece è scritto no toleshava il suo sbaglio era che aveva staccato la terra e mi ricordo di aver letto non vorrei dire una sciacchezza che ora Haim dice che il pozzo di Miriam dove dove viaggiava col popolo irrigava irrigava l'area circostante e da là cresceva e quindi per come si chiederebbe ma nel deserto cosa aveva da tagliare se era nel deserto forse cactus ma comunque non credo ad ogni modo dice questa spiegazione credo la Haim che il pozzo di Miriam irrigava e faceva crescere quindi dice questa beraita lo sbaglio del lo sbaglio del Mekoshesh era che aveva tagliato la legna Rav Ahab Rabiakov ma Rav Ahab Firaakov dice me ammerhava aveva fatto aveva accumulato la legna quindi ciascuno dice che aveva fatto una delle tre fasi diciamo del Mekoshesh alla fine è stato ucciso insomma perché aveva dessacrato lo Shabbat dice la Gemara le manav cammina che differenza fa? ha sbagliato che sia questo che sia quello che sia quell'altro c'è la Gemara le chiede Rav c'è una differenza se andiamo a vedere cosa ci dice Rav cosa dice Rav De Amma Rav disse Rav ho trovato una pergamena nascosta in casa di Rabbi Ria cos'è questa pergamena nascosta? sappiamo che la Torah orale era vietata scriverla eccezione fatta fino al tempo di Rabbi Danasi che ha visto che era necessario scriverla da là in poi è stata scritta per non dimenticarla però prima di questo era vietato però per ripasso personale era permesso scrivere ma soltanto chi la scriveva poteva leggerla per ripassare nessun altro poteva leggere quindi veniva messa da parte Rav trova questa pergamena ed era scritto in questa pergamena le categorie generali di attività vietate da svolgere di Shabbat sono 40-1 sono 39 ma 1 è di portare solo per una attività che cosa vuol dire? che cosa vuol dire? sembrerebbe questa frase un po' criptica sembrerebbe che l'intento sia questo sono 39 categorie generali di attività vietate da svolgere di Shabbat e se una persona le fa tutte 39 dimenticandosi che non si possono fare porta un solo corban questa è l'unica spiegazione plausibile però c'è un problema porti un solo corban e basta e di più no ma abbiamo studiato una Mishnah che la conosciamo bene perché la Gemara la citava forse 4-5 volte in precedenza la Mishnah diceva che le categorie di attività sviluppate da svolgere di Shabbat sono 40-1 e la Gemara si chiedeva per quale motivo la Mishnah deve dirmi che sono 39 se comunque la Mishnah mi dice arare seminare mettere fare covoni eccetera li posso contare da solo io e arrivo a 39 perché deve dirmi sono 39 e sono i seguenti e al che rispose ci viene a insegnare che se una persona fa tutte le 39 merahot dimenticandosi che sono vietate cioè ha una dimenticanza nel senso che dimentica che è vietato fare questo fare quell'altro fare quell'altro e le fa tutte 39 deve portare un corban per ciascuno perché sono 39 dimenticanze non è che dimentica che è Shabbat dimentica che è vietato fare queste attività quindi cosa si dice Rabbi Ochanan che questa Mishnah mi insegna che se uno dimentica che è vietato fare le 39 merahot porta 39 corbanot e quindi quello che Raab trova in questa pergamena nascosta che Isi Benyouda dice che è Hayav solo uno non può certamente riferirsi al fatto che è Hayav un solo corban bensì eima bensì devi spiegare così e no Hayav alla chatmen devi spiegare diversamente Isi Benyouda diceva così ci sono 39 categorie vietate della fare di Shabbat però per una di queste non si è Hayav per una di queste e non dice quale non si è Hayav cosa vuol dire non si è Hayav secondo una spiegazione allora ci sono tre modi se una persona fa una melahà involontariamente porta il corban se la fa volontariamente ci sono testimoni morte per Beddin se invece non ci sono testimoni morte per mano divina allora un modo di interpretare che per una melahà non c'è non si è Hayav si intende dire che se lo si fa appositamente che se lo si fa appositamente non ci sarà anche se ci sono testimoni il Beddin non ucciderà questa persona però se l'ha fatta involontariamente porta il corban o se l'ha fatta volontariamente ci sarà comunque morte per mano di Hashem un'altra spiegazione dice no un altro Rishon dice no quando dice Isi Benyouda che per una di queste non si è Hayav vuol dire non bisogna portare se l'ha fatta involontariamente non porti il corban se l'ha fatta volontariamente non c'è pena di morte né per Beddin né per mano divina ad ogni modo c'è una melahà per la quale o completamente o in parte non si è Hayav e qual è questa? non è scritto qual è però almeno possiamo escludere una di queste Raviyouda 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 mi diceva che il Mekoshesh cos'è che aveva fatto? il Mekoshesh aveva trasportato quattro amot Pshita Leide al-Mavir Hayav dice trasportare quattro amot in proprietà pubblica viene escluso da quella melahà certamente non è quella la melahà per la quale non c'è punizione perché il Mekoshesh è stato punito quindi certamente non è quella quindi ci rimangono altre 38 da valutare quale di quelle è esclusa Umar Tnita invece secondo Raviyouda che diceva che il Mekoshesh aveva tagliato legna Pshita Leide toresh Hayav è chiaro che chi stacca legna è certamente Hayav quindi andiamo a valutare le altre 38 quale di quelle viene esclusa Ravakha Baryakov Pshita Leide di me amir Hayav invece Ravakha Baryakov diceva che il problema del Mekoshesh era che aveva accumulato la legna questa certamente non fa parte di quella melahà di cui parlava Isi Benyuda per la quale non si è Hayav quindi Mar Savar uno è dell'opinione uno dei tre ha miat l'ome sapca su questa almeno non ho dubbio Umar Savar l'altro dice ha miat l'ome sapca su quella almeno non ho dubbio quindi alla fine la differenza qual è Isi Benyuda mi dice per una melahà non si è Hayav almeno questa so che non è questa melahà le altre 38 bisogna andare a cercare altri modi di capire quali vengono esclusi visto che si è parlato del Mekoshesh è quel famoso Zlofhad che ha avuto solo 5 figlie senza figli maschi e dopo che muore le figlie si presentano da Moshe e dicono nostro padre non ha avuto figli è morto per il suo peccato perché dobbiamo perdere perché deve perdere il nome di nostro padre e non avere una parte nella terra di Israele come sappiamo che si tratta di Zlofhad è scritto più avanti è scritto il popolo fu nel deserto si trovò nel deserto e videro un uomo che era Mekoshesh che faceva questa attività vietata abbiamo visto tre opinioni più avanti quando vengono le figlie di Zlofhad si presentano a Moshe e dicono nostro padre è morto nel deserto perché dicono nel deserto c'è una geserà così come lì cioè quando si parla dell'episodio del Mekoshesh è scritto che il popolo fu nel deserto e quello è il Mekoshesh quando le donne le figlie di Zlofhad dicono nostro padre è morto nel deserto chiaramente si parla di loro padre di Zlofhad deserto deserto lì deserto si parla di Zlofhad qui deserto si parla di Zlofhad poi come ho visto prima con far passare la voce lì a Kippur si parla nel giorno del Divieto qui Moshe nel giorno del Divieto è Shabbat questa è la geserà Shabbat questa è la rabbia Kiva gli disse a Kiva o così o cosa nel senso sia se tu hai ragione sia se non hai ragione dovrai rendere conto perché se in effetti hai ragione te che Zlofhad la Torah chissà tu la Torah nasconde la sua identità non dice chi era la Torah dice trovarono un uomo che raccoglieva legna che faceva quella pratica del Mekoshesh non dice chi e tu invece vieni a rivelare la sua identità e quindi dovrai rendere conto e se non hai ragione a Tamo Zilaz lo tozzalik stai screditando quello tozzalik che non ha fatto niente di sbagliato quindi o così o cosa dovrai rendere conto concludiamo dice la Gemara però la fine ha una geserà e quindi è come se la Torah ti stesse indicando chi è questo peccatore dice la Gemara lui questa non la studia cos'è questa frase anzitutto non si capisce chi è il soggetto chi è lui può essere Rabia Kiva può essere Rabia da Bambetera ma anzitutto cosa vuol dire lui non studia la Geserà Shavah Geserà Shavah è questo metodo di studio che dice se questa parola qui vuol dire X allora la stessa parola lì vuol anche dire X non si può fare questo studio da soli perché altrimenti noi possiamo distruggere il mondo come dice la Gemara prendi una parola qui prendi la parola lì mettele insieme e tac ti fai le tue mentre il Calvachomer è un ragionamento a fortiori se la Torah lì mi dice così e lì c'è meno logica maggiore ragione questo si può fare perché è una questione di logica invece associare due parole qui è scritto qui così qui lì è scritto così allora se lì va bene allora qui va bene questo non si può fare da soli deve essere una cosa che viene tramandata allora molte volte c'è una disputa tra Chachamim uno dice io sostengo la Geserà Shavah e io no che cosa significa se comunque non è qualcosa che la studiamone da soli alcuni come il Tosfot spiega sapevano che c'era un numero esatto di Geserà Shavah non lo so quante non ho idea c'era un numero di Geserà Shavah allora dice la Gimbaran la Bidabemeteira dice io sono saturo nel senso c'è questo numero di Geserà Shavah che sappiamo che questo è il numero e io ho in effetti tutti questi Geserà Shavah ho abbastanza Geserà Shavah da riempire questo numero quindi non posso più accettare un'altra così dice Rabidabemeteira perché se Rabidabemeteira fa questa Geserà Shavah perché Rabidabemeteira non può studiare da Rabidabemeteira perché dice a Gimbaran perché dice io ormai quel numero X di Geserà Shavah ce l'ho già tutte quindi non posso aggiungere altro Rabidabemeteira invece non ce l'aveva e quindi aveva spazio a quest'altra Geserà Shavah che aveva imparato dai suoi dai suoi maestri ok quindi questo sarebbe quello che risponde la Gemara come Rabidabemeteira non c'è da questa Geserà Shavah non la dice la Gemara ok e la Meirahava bene secondo Rabidabemeteira Tzlofhad non era colui che o almeno non possiamo sapere che era colui che aveva fatto il problema del divieto del Mecoshesh e quindi quale peccato ha fatto perché le figlie di Tzlofhad dicono nostro padre è morto nel deserto inizialmente diceva B'A'K'iva deserto ah deserto vuol dire associato a quell'episodo del deserto del Mecoshesh diceva la Gemara non puoi farlo o così o cos'ha e quindi che peccato era quello di Tzlofhad dopo il peccato degli esploratori il popolo piange dopodiché si rendono conto di aver sbagliato dicono noi adesso andremo saliremo sul monte per andare in Arezzo di Israele Alchemo ci dice non fatelo perché avrete sconfitti e Tzlofhad era di quelli che sono saliti hanno voluto sì salire in montagna e sulla montagna sono stati sconfitti questo è un peccato minore evidentemente perché era fatto con una buona intenzione evidentemente perché mentre trasiedere lo Shabbat è un divieto esplicito qui invece era un modo di retificare il loro sbaglio per dire vediamo di mettere a posto il nostro sbaglio perché non volevamo entrare in Arezzo di Israele adesso invece vogliamo sì entrare evidentemente viene trattato come un peccato minore e questo è quello che dice la Beda Mbeterra era il peccato del padre di di Tzlofhad del padre dei figli di Tzlofhad quindi Tzlofhad